La prima battaglia è andata ed è stata vinta da guerrieri veri. A Torino la VL doma Varese nei quarti di finale di Coppa Italia per 84-80 e approda la semifinale con Brescia in programma sabato sempre al Palalpitur. Una VL più forte delle avversità, con Moretti che resta in panchina debilitato dalla Farigite e Citam a mezzo servizio, la squadra viene presa per mano da Ciara Lampopoulos dominante in un primo tempo che vede la VL partire col piede sull'acceleratore chiudendo il primo quarto 29-12. Varese però è sul pezzo e rosicchia i passivi chiudendo il primo tempo 44-35 e aumentando il fiato sul collo nel terzo quarto dove arriva al pari. L'ultimo parziale è una lotta su ogni possesso decisa da un canestro pesantissimo di Abdurrahman e dal contributo difensivo di Totè. Gioia sfrenata per i tifosi pesaresi arrivati a Torino con due pullman, un seguito che aumenterà sabato quando alle 20.45 la VL sfiderà a Brescia che a sorpresa si è presa lo scalpo eccellente di Milano eliminando l'Armani. Un'altra battaglia per sognare la finale di domenica. Ma è stato un mercoledì in campo anche per la Vispesero che nel recupero del Benelli col Ponte d'Era ha pareggiato 1-1 allungando a 7 turni utili la sua striscia positiva del 2023. Protagonista in negativo l'arbitro palermitano Mucera che agevole al vantaggio ospite a fine primo tempo fischiando una surreale violazione di 6 secondi al portiere Farroni. Sanzione che genera una golosa punizione dentro l'area che Nicastro trasforma in gol aiutato da una deviazione. In un secondo tempo che si chiude 10 contro 10 per l'espulsione del Vissino Gerardi e del Toscano Martinelli la Visse ottiene l'1-1 a 5 minuti dalla fine col pesaresi Doc Rossoni che trova la deviazione vincente su punizione calciata da Sinclair. Buon punto per la Vis che allunga a più 3 sui play-out.